La Liga Nazionale di Lettanti della Toscana si muove dopo i recenti fatti di violenza nel mondo del calcio, di cui l'episodio di Castel San Nicolò è stato il triste emblema che ha fatto il giro del mondo, grazie al nostro video che ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. Il Consiglio Direttivo ha analizzato profondamente il fenomeno, riconfermando una ferma convinzione alla lotta alla violenza sotto ogni aspetto. Dopo questa approfondita analisi, il Consiglio Direttivo si è trovato ancora più unito, impegnato e legato con tutte le componenti a sostegno della classe arbitrale. Le misure adottate sono queste. Nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo, le partite inizieranno con 5 minuti di ritardo nel settore giovanile Juniores, 10 minuti tutte le altre gare dall'eccellenza alla terza categoria, calcio a 5 e calcio femminile, in programma in tutta la Toscana. Sarà assicurata la tutela legale gratuita a quelle società che intraprenderanno azioni legali risarcitorie verso coloro i quali si rendessero protagonisti di atti di violenza nei confronti dei direttori di gara. Si amplia l'assistenza anche contro chi si rende protagonista di offese graziali procurando danno alle società. Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre, nel caso in cui tali fenomeni dovessero ripetersi, di mettere in atto ulteriori iniziative a tutela dell'attività della Regione Toscana nel rispetto di coloro che la svolgono con correttezza.